ciao ragazzi siamo al festival del gioco è bellissimo guarda ferragasti aia aiuto mi sta accettando adesso vi porto nel mondo del signore degli anelli ragazzi qui è dietro le minieri di moria guardate guardate qua sotto non sembra una bocca venezia l'apoli si e dove è roma dai non c'è roma qua non è qua qua è roma è lo stato papale dove è il papa qua lo sai che questo è un po' per i grandi non è per i bimbi piccoli mi piace tanto e certo va bene se non hai paura io voglio giocare fa un po' paura però questo secondo me dalla foto leonardo non tirare i dadi leonardo giumanji siamo in giumanji non tirare i dadi aiuto sai che succede se tiri i dadi in giumanji leonardo 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 quello lì mamma sembra quello di Aravel però marrone oh ma è bellissimo Leo, guarda no guardate se faccio piano scende ed è tranquilla poi mi sembra che vi sporcate le mani no, si sporcano guardate se faccio forte diventa dura invece se faccio piano guardate quello che succede è troppo bello adesso facciamo una formina bello principessa è principale così uno e uno e due ciao aiuto quella è una catapulta io sono il re del castello cosa stai facendo al mio castello? cosa fai al mio castello? guarda guarda aiuto e dopo io come la tolgo questa roba di qua? guarda un po' come è il mio castello lascia te la tolgo io ragazzi guardate qua guardate io giro e ma sembra tipo un forziere è un forziere mi sa che mi ha rotto il castello vado a controllare che non mi abbia rotto il castello guardate guardate come sembelire un tesoro guardate guardate il tesoro è il mio forziere il mio forziere il mio forziere dove è il mio forziere? ecco'lo è qua ecco'lo è qua è duro è più duro ecco' lì è rotto ah 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 allora Leo deve fare un cubo e papà invece deve riuscire a incastrare tutte quelle cose quelle palline lì e poi ci deve mettere questo cosino sopra qua ah aveva detto che era facile ma guarda yes ce l'hai fatta? devi metterci il coperchio però qua eh no eh no non ce l'hai fatta è troppo alto oh guarda questo Leo guarda questo è una torre giralo sul tavolo giralo mi sa che papà non ci riesce no 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 è hai nessuno no no non è MXL non è possibile però è carina aiuto questa è quella è più brutta la maledetta queste sono funziona solo sul bianco guarda i neri sono tipo barre non ci riesce ad andare sul bianco cioè ragazzi guardate questo è fatto tutto colorato tutto con i pennarelli guardate questo ragazzi spero tanto che questo video vi sia piaciuto mettete mi piace cecce se vi è piaciuto il video e il festival del gioco iscrivetevi al mio canale ciao da leonardo lius lius e dal palloncino di giallo ciao leonardo leonardo d con mauro e tric ci danno tanta allegria c'è la simpatia e i video di leonardo d a 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